ciao a tutti oggi siamo a monteforte cilento un piccolissimo borgo pensate di appena 500 abitanti e siamo venuti qui dall'amica monica al suo laboratorio di pasticceria perché lei è una storia simile a tante di quelle che abbiamo visto ai nostri video lei è una ricercatrice una biologa ha lavorato in tutta italia ha lavorato anche in molte parti del mondo a singapore anche con notevole successo fino a quando ha deciso di ritornare qui nella sua terra a coltivare la sua passione e noi andiamo a vedere il suo laboratorio una biologa quindi laureata a napoli scienze biologiche sono partita poi alla volta di milano dove volevo fare e dove ho fatto poi dopo ricerca in campo oncologico a milano poi mi sono spostata in diverse aziende sempre nell'ambito della biologia per poi essere spedita dalla dia sorin azienda torinese a fare un progetto su dei microchip dell'St microelectronics a catania poi ho avuto la possibilità di portare questo progetto che curavamo in ST a singapore da singapore sono poi invece ritornata dopo quattro anni di ricerca nell'ambiente singaporese sono rientrate in sicilia per poi maturare una decisione fondamentale insieme a mio marito che quella di ritornare a casa cioè di ritornare in cilento e ritornata a monteforte ho deciso di fare di quella che era una delle mie passioni cioè la pasticceria di trasformarle in lavoro ed è così che è nato lievità circa quattro anni fa praticamente in lievità rifacciamo un po' tutta la pasticceria tradizionale quella delle nostre nonne delle nostre zie al momento i prodotti di punta sono il nostro cantuccio e il mielo soffichi e noci altri prodotti sono la nostra pasta di mandorle che amiamo fare con la ricetta siciliana che abbiamo imparato direttamente in sicilia però con una farina di mandorle sempre più cilentana nostri lievitati sono esclusivamente a base di lievito madre il nostro lievito madre dà vita ai nostri lievitati per le feste i panettoni le colombe che alle nostre il brioche o comunque una prima colazione con lievitazione naturale la nostra passione per i lievitati è stata anche premata più di una volta l'ultimo premio è quello sulla nostra colomba artigianale una freschezza un retrogrusto fresco molto apprezzato insomma dalla giuria grazie a tutti grazie a tutti